Siamo con Sonia Ross, lei è un'artista, una pittrice e sta esponendo qui a Porto Bufolè tutta una serie di suoi quadri. Assieme a lei è la curatrice del libro che lei ha realizzato poi di questa mostra. Ecco, veniamo a lei. Che significato ha questa mostra, questi suoi quadri, cosa vogliono dire? La mostra si intitola Empty Eden e dalla traduzione si indica un Eden vuoto però in questa traduzione e in questa scelta di questo titolo non c'è un significato negativo, non ha un'accezione negativa perché un Eden vuoto si può pensare anche a qualcosa di bello che finisca. Nel mio caso invece è stato scelto in quanto è un Eden vuoto proprio come fosse un contenitore, un Eden vergine, nuovo, dove io inserisco le mie visioni, le mie creature, tutto quello che fa parte del mio lavoro creando un'alterità, un altro mondo. Ecco, quanti quadri si compone questa mostra? 25 opere più o meno. Ecco, lei questa mostra quanto rimane aperta? Quanto rimane qui? Si inaugura oggi, 2 ottobre e termina il 10 gennaio 2021. Per cui chi vuole venire ha tempo sufficiente per vederla. Ecco, sentiamo un po' la curatrice. Grazie. Sì, io mi chiamo Afrodite Economidu, sono la curatrice di questa mostra e lavoriamo da tanti anni molto bene con Sonia Rosso, abbiamo un grandissimo affiatamento e devo dire che veramente mi entusiasmano e mi emozionano sempre le sue opere. Questa serie di lavori nuovi, che si chiama Empty Eden, ha questo titolo, potremmo dire anche suggestivo, che in questo periodo particolare che stiamo vivendo acquisisce maggior significato. Dovete sapere comunque che è un titolo che abbiamo coniato prima dell'era Covid, quando all'inizio dell'anno stavamo programmando una mostra con questo titolo appunto per la Fondazione Sandretto Rere Baudengo a Torino. Purtroppo questa mostra è saltata, ci sarà più avanti nel 2021 e così la mostra di Porto Buffalè con lo stesso titolo è venuta prima, si è realizzata prima. Sono opere, la maggior parte grandi tele, molto vivaci come colori, come fluidità e sono, posso dire, un passo in avanti che ha fatto Sonia Rosso, una metamorfosi e un salto concettuale nel suo lavoro, perché in queste opere allarga il suo sguardo e rappresenta dei mondi illusori i quali ospitano le creature che lei fino adesso ha rappresentato nelle sue opere. Sono creature immaginarie, molto particolari, le quali fino adesso erano rappresentate in uno spazio neutro. Invece adesso si sta rappresentando il mondo che le ospita oppure il mondo che le ha generate. Quindi è un nuovo lavoro che stiamo presentando con grandissima gioia e molto onore di venire qua a presentarla. Porto Buffalè.